Bene maestro, abbiamo appena finito di costruire i due guardiani del mondo, sono veramente bellissimi. Adesso possiamo andare... Oh, che succede? Cosa? Si stanno attaccando! Oh mio Dio! Ma chi? Dove sei? Dove sei? Bella faccia, dove sei? Sono nel porto! Corri subito nel porto! Nel porto! Ok, arriva, 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 arriva! Suona le campane, suona le campane, suona le campane! Ma scusa, ci sono i guardiani, nessuno ci può attaccare adesso, ci pensano loro! Abbiamo risvegliato gli antichi illazers, si stanno attaccando! Ma cosa stai dicendo, bella faccia? Sì, sì, hanno visto queste statue! Ah, no, nel porto! Corri nel tuo porto! Oh mio Dio, sono lì veramente! No, 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 aspetta! Vieni, vieni! Ehi, bella faccia, vieni! Aspetta, aspetta, aspetta! Loro non possono entrare nelle mura della città, vieni con me, seguimi! Seguimi immediatamente, bella faccia! Seguimi, seguimi, seguimi! Dobbiamo andare a prendere del ferro e del legno! Hai del legno? Eh, no, capitano! Come, non hai del legno? Scusa! Va bene, ok! Allora, loro stanno lì, non importa, adesso dobbiamo trovare una strategia di guerra per combatterli! Seguimi! Io lo sapevo che questo giorno sarebbe arrivato! No, 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 qua! Arriveranno tutte e due le nostre vanille e le spazzeranno! Guardiani, per favore, proteggeteci! Cosa stanno facendo lì, impalati? Goblin, guardiani! Forse stanno guardando una serie di... Vieni, 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 seguimi, seguimi! Non c'è tempo da perdere, non c'è tempo da perdere! Mi sembra una spada! Prendi una spada! Io ti faccio lo scudo adesso, bella faccia, sei pronto? Lo scudo, sì! Sì, 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 sì! Ho imparato a fare gli scudi! Allora, bisogna prendere due di ferro... Non c'è tempo da perdere, Kendall! Stanno già distruggendo tutto! Ma cosa stai dicendo, veramente? Sì, stanno rassiando tutti! No, 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 non glielo possiamo permettere! Non glielo possiamo permettere! Allora, guarda! Ti faccio lo scudo! Sta zitto, sta zitto, sta zitto! Sta calmo, sta zitto, sta calmo, sta zitto! Calmo, calmo, zitto, calmo! Zitto, zitto, calmo! Allora, prendi questo! Oh mio Dio, sì, lo scudo! Ok, 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 ok! Io me ne faccio un altro adesso, così non ci possono fare del male e non dobbiamo morire assolutamente, capito? Ti prendo una pozione di cura, grazie, eh! Metti lo scudo! Mi serve un'armatura! Cavolo, dov'è l'armatura? Vado a prendere l'armatura di emergenza! Valla macchia! Corri, corri, corri! Andiamo a prendere l'armatura di emergenza immediatamente! Seguimi! Veloce, veloce, veloce! Oh, porca miseria! Oh, per fortuna che ho messo là tutti i manichini con le armature! È finita, Kendall! No, non è finita nulla! Non è finita nulla! È finita, Kendall! Ok, io ho preso l'armatura di emergenza! Prendiamo questa, prendiamo questa e la cambiamo, perfetto! Uno e due! Manichino, stai tranquillo! Trendo molto ti rimetto anche i piedini! Come dovevo mettermi? Eh, vabbè, dai, bella faccia! Sì, sì, va bene così! Andiamo, andiamo! L'importante è che hai l'elmetto in ferro che ti proteggerà sicuramente! Abbiamo un arco? Non abbiamo un arco, non importa! Possiamo ucciderli anche senza l'arco! Bella faccia, cosa stai facendo? Non lo so! Oh, cavolo, guarda, lì sono là sotto! Ma aspetta, io ho sentito di una maledizione! Se li uccidi, loro poi ti distruggono il mondo, ho sbaglio? Sì, ti distruggono il mondo, però dobbiamo distruggere il loro campo base! Hanno uno standardo qua vicino, sicuramente! Perché ti stavano spiando, forse già da quella volta che registravamo le prime volte! Avevano sentito che urlavamo, quindi... Sì, 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 sicuramente, sicuramente! Allora, aspetta, passiamo attraverso il ponte, vieni, è una strategia! Non ci dobbiamo fare vedere, dobbiamo fare il giro! Seguimi, seguimi! Non li vedo! In mezzo ai boschi, ma faccia, in mezzo ai boschi! In mezzo ai boschi sono andati! Vieni qua, vieni qua! Eccoli, li vedo, sono nascosi! Stanno confabulando, stanno parlando tra di loro! Guardali, sono super cattivi, bella faccia! Riesco a capire cosa dicono! Leggo il labiale! Ah sì, cosa stanno dicendo? Oh mio Dio! Cosa? Oh mio Dio! Cosa? Uno ha manzato un hamburger, ma ti rendi conto? Ma chi se ne frega dell'hamburger, bella faccia, li dobbiamo uccidere, guardali! Guarda come sono cattivi! Andiamo, andiamo, seguimi! Seguimi! Non ti fare vedere, non ci hanno visto! Muori, stupido zombo, abbiamo dei nemici molto più forti di te da combattere! Attento, Kandal, io non mi fido! No, 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 gli dobbiamo fare un attacco da dietro! E qui da qualche parte! L'assalto dall'alto! Ancora posso stupire zombo! Giannicola, cosa sto facendo, Giannicola? Oh mio Dio, attento, c'è un creeper dietro di te! No, 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 li stanno mandando loro, li stanno mandando loro! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Shhh, shhh! No, sono qua! Bella faccia! Attacca lì! Vai giù, monta lì! È morto! Oh Kandal! Prendilo! Uccidilo! Muori! Ok, li abbiamo uccisi! Oh mio Dio, erano solo gli schiaugnozzi questi! Oddio, bella faccia! Che cosa? C'ho la maledizione! Presto, dobbiamo trovare il loro campo base da qualche parte, Giannicola! Ok, 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 il campo base, il campo base! C'ho la maledizione infinita perché ho ucciso il loro capo! Veramente è la maledizione? Sì, bella faccia! Io me ne vado! No, 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 mi devi aiutare, cosa fai? No, 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 senti, io non voglio guai, hai capito? No, 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 aspetta! Restino qui! Aspetta, aspetta! Là c'è Giannicola insieme a tanti mostri, ma per quale motivo sono là in mezzo? Dov'è il loro campo base? Oh, idea! Al cimitero di Aerobrain! Andiamo al cimitero di Aerobrain! Guarda! Devi seppellire, devi seppellire quello standardo! Oh, è possibile! Andiamo, andiamo, seguimi, seguimi! Oh, cavolo, ho paura però! Ma perché sono spuntati qui davanti a noi? Ok, piano, bella faccia, sii coraggioso, sii coraggioso! Non piangere, ti sono due schiaffi! Guarda, è pieno di mostri! Ci sono i loro scagnozzi, secondo te? Io mi sa che... Mi chiamo la mamma! Mi chiamano la mamma? Peccatevi questo! Ma prendi questo, stupido! E poi, stupido, sii! E poi, anche te! Anche questo! Ma io sono il tuo amico, sono Kendall! Allora, vieni, vieni, vieni! Dobbiamo seppellire subito questo standardo al cimitero di Aerobrain! Lo dobbiamo sacrificare nel fuoco! Cosa? Ci sono le croci infuocate! Sì, ci sono... Ma quelle croci le hai messe tu quando mi hai fatto lo scherzo, bella faccia! Allora, hai un accendino? Eh, sì, ce l'ho! Ok, perfetto, dobbiamo sacrificare questo standardo! Vieni, vieni, ci penso io! So tutto l'occorrente per fare l'attuale! Dai fuoco qua! Aspetta, aspetta, so tutto l'occorrente! Non ti preoccupare, guarda! Metti il fuoco! Allora, bisogna rimetterla a croce così, guarda! La faccia, sei sicuro? Sì, così, guarda! Questa è la tomba di Aerobrain, si arrabbia! Lo so, ma è l'unica maniera, perché questi illiazer sono troppo forti per noi! Ok, lo brucio, eh! Forza, devi bruciarlo! Ok! Oh, cavolo! Non si brucia! No, perché non si brucia? Non si brucia, non si brucia! Ve la faccia, che facciamo? Che facciamo? Non lo so, lascialo, lascialo lì! Sicuramente ci penserà Aerobrain! Ok, Aerobrain, veditela tu! Il nemico del mio nemico è il mio amico! Ah, è un attacco! No, 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 no! Morite, morite, morite tutti! Via, via, via! Ve la faccia, come si suol dire! Il nemico del mio nemico è il mio amico, quindi... Aerobrain è il mio amico, perché deve combattere... Oh, cavolo! Più o meno! Oh, mi è venuta un'idea! Ve la faccia, mi è venuta un'idea fantastica! Che idea! Ma, scusa, io ho la maledizione! E se dovessi bere del latte? Sparisce! Hai ragione, proviamo, dai! Prendi questo! Aspetta! Dobbiamo prendere, dobbiamo trovare una mucca! È una missione importantissima! Alla ricerca di una mucca! Oh, fai il verso della mucca! Oh! No, devi fare il verso del toro! Ah! Così una mucca viene innamorata e... Ma che razza di toro c'avete a San Marino, scusa! Allora, dobbiamo trovare una mucca! Ma io non avevo delle mucche! Io mi ricordo di avere delle mucche! Lì, nel recinto dei polli e dei maiali! Siamo sicuri? Andal, sai veramente... Sai che il tuo mondo ora è in pericolo! Lo so che il mio mondo è in pericolo! Ho la maledizione addosso! Ho ucciso il loro capo! Oh! Che è successo? Sono stato io! Ah, sei caduto? Ok! Senti, allora, guardiani, per favore, proteggeteci dall'alto! Ma perché? Tutti a me mi devono capitare! Tutti a me, tutti a me, tutti a me! Guarda, c'è un altro creeper qua! Per favore, non esplodete! Non fate nulla! Vado a cercare subito! Ecco le mucche! Le mucche! Signorine mucche, per favore, mi potete dare del latte? Ho bisogno di spezzare la maledizione! Ce l'ho al secchio! Ah, ok, per favore! Dove sei, bella faccia? Dove sei andato? Non so, mi sono perso! Ok! Lì, per forse mi prenderà! Allora, qua sono con tutti i tuoi parenti! Vieni qua, per favore! E prendiamo un pochettino... Oh, ecco il latte! Lo devi bere pure tu, bella faccia! Vieni! No, come pure io! Certo, però, devi bere pure tu! Scusa, vieni davanti casa mia! No, no, io non bevo il latte! Bella faccia, vieni davanti casa mia! Cosa sei a stemmi? Sono a stemmi e non bevo il latte! Bella faccia, si veloce, per favore! Che sennò ci vengono a raidare tutto il mondo! C'è miseria, ma da dove si passa qui? Sto arrivando! Vieni, 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 vieni! Allora, bevi! Dimmi se è buono, di buona qualità! Ah, perché io devo essere alla cavia? Certo! Fresco come quello della nonna, sì, sì! Come quello della nonna? Ma chi è la nonna? Ma, bella faccia, non l'hai bevuto? Bevi questo! Ah, lo devo bere anch'io? Certo, lo devo bere! Ma tu non sei bevuto? Bevi! È buono? È buono... Bella faccia? Bella faccia! Mi fai paura? Bella faccia? Che succede? È uno scherzo? Dammi... Vado a prendere dell'altro latte, allora! Ora mi serve anche a me! Veloce, veloce, veloce! Oh, cavolo, ho guardato la maledizione! Cosa? È arrivato il toro! Ma sei serio? Sto scherzando! Ma mi ha dato paura, dai! Il toro dei villager è super potentissimo, mi ammazza! Ok, vado subito, prima che arrivino i mostri! Attento, stanno arrivando gli scagnotti! Un po' di latte, per favore! Come tu hai finito il latte? Allora tu, mi puoi dare il latte, per favore? Grazie! Aiuto, ho un po' di problemi! L'ho bevuto! È andata via la maledizione, bella faccia! Eh, no, mi sa che non è andata via! La maledizione sei tu! Mi stai distruggendo il mondo, bella faccia! Cosa fai? Ammazzali! Ammazza tutti! È tutta colpa tua, adesso arriverà tu! Ehi, lascia stare già Nicola, tu hai capito? Aiuto, aiuto! Mori, mori! Mori! Senti, mi sa che conviene andare a letto, bella faccia! Qua ci sono fin troppi pericoli! Direi proprio di sci... Guarda quanti sono! Sono ovunque! Escono dalle pareti! Mori! Mori! Ok, ok, senti, non abbiamo più la maledizione, quindi gli illager probabilmente erano già in viaggio per venire qua a casa nostra, però adesso... Eh sì, è svanita, ho bevuto il latte, ha funzionato! Abbiamo trovato il rimedio della nonna, è perfetto! Ora, sali qua per favore, non facciamo cretinate, ok? E torniamo tutti e due a letto! Io non t'ho mai visto, eh! Io non t'ho mai visto! Bella faccia, se arrivano i problemi ti voglio qua in prima linea ad aiutarmi! No, bella faccia! Vabbè, me ne vado a letto pure io! Oh, cavolo, che giornata stressante! Gian Nicola, per fortuna che almeno tu si sanno in salvo! Buonanotte! Speriamo di non svegliarci domani con gli illager fuori casa! Bella faccia! Sì? Bella faccia! È arrivata una lettera! Che lettera? È scritto... Noi torneremo! Sì! Ma, da chi, chi, noi? Non lo so, è entrato qualcuno qui... Mi amici tuoi, forse? No! No? C'è scritto... Illager, sì! Cosa? Ma quindi non era un sogno? No, non era un sogno! No, 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 stai scherzando? C'è scritto... Noi ci vendicheremo per i nostri fratelli caduti in battaglia! Ho un'idea, bella faccia! Ho un'idea! Vieni, seguimi! Dobbiamo andare sulla torre dei quattro regni e guardare tutti e quattro i regni per vedere se c'è qualche illager, qualche villager cattivo che ci vuole uccidere! Sali, sali con me! Salendo sulla torre dei quattro regni avremo una visione panoramica di tutto quanto quello che ci circonda! Quindi, vediamo... Lì sembrerebbe che sia tutto quanto pulito... E lì? Cosa c'è? Non c'è nessuno da Billy, Viserion è sano e salvo... Sull'isola delle Bedwurst è tutto ok... Il deserto sembra essere tutto ok... La costruzione di Claudia... E anche là sotto è tutto ok... Bella faccia! Aspettate di farmi gli scherzi, abbiamo cose più importanti di cui pensare! Allora, se vuoi mangiare un panino... Ok... Sembrerebbe che tutto quanto sia ok, bella faccia! Per oggi siamo sani e salvi, ce la siamo vista veramente brutta! Lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto questo episodio contro gli illager! Da Kendall e bella faccia è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video! Ciao! Ciao!